Dopo aver registrato un buco da 450 milioni di euro nel 2022 nella sanità, la Regione Puglia ha approvato nella giornata di ieri le prime misure di contenimento della spesa che riguardano farmaci, dispositivi medici e gas medicali. Si tratta, spiega l'assessore alla sanità Rocco Palese, di provvedimenti indispensabili e da attuare con urgenza e in maniera tassativa per poter ridurre nel 2023 tre consistenti aggregati di spesa. Le misure sono state sottoposte anche alla valutazione del tavolo interministeriale congiunto per la verifica degli adempimenti LEA e del piano operativo e risultano tutte approvate da parte dei ministeri affiancati oltre che dall'AIFA con emissione di parere positivo, comunicano dalla Regione. Per quanto riguarda la spesa farmaceutica convenzionata per il 2022 c'è stato uno sforamento di 7,3 milioni di euro, quindi l'aggiunta ha stabilito per il 2023 gli obiettivi di budget per singola ASL finalizzati a determinare, oltre al rispetto del tetto di spesa assegnato alla singola azienda, anche una riduzione ulteriore di spesa pari a 47,5 milioni di euro. Attuazione del piano ambientale exilva non oltre il 23 agosto 2023, lo scrive il 14 aprile scorso Virginius Sincavicius, commissario per l'ambiente dell'Unione Europea, rispondendo ad una lettera firma dell'eurodeputata del gruppo Greens Rosa D'Amato, nella quale l'ambientalista denunciava la situazione all'interno dello stabilimento siderurgico Acciaierie d'Italia di Taranto. Nello specifico, in merito alle elevate concentrazioni di benzene ed altri inquinanti tossici, sui gravi ritardi nell'attuazione del piano ambientale e sull'incidente nell'AFO 4 dello scorso 8 gennaio. L'UE dunque non ammette deroghe o proroghe, spiega l'Adamato. Nel contesto della procedura di infrazione avviata nel 2013, la Commissione continua a seguire l'attuazione del piano ambientale stabilito nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2017, spiega Sincavicius, e si attende che le autorità italiane lo eseguano pienamente non oltre il 23 agosto 2023. Si è tenuto questa mattina nel Salone degli Stemmi a Palazzo della Provincia, il Consiglio Provinciale di Taranto, convocato dal Presidente della Provincia Ionica, Rinaldo Milucci. Tra i punti all'ordine del giorno, tra questi il documento unico di programmazione, nel quale convergono gli obiettivi che l'ENTE, facendo leva anche sulle risorse del PNRR e del PNC, si prefigge di raggiungere in sette missioni. Sì, noi siamo ormai ai primi quasi 200 giorni di amministrazione provinciale, come avevamo annunciato nelle nostre linee programmatiche, stiamo risintonizzando la traiettoria di sviluppo, di riorganizzazione, anche di rigenerazione, come dire, delle infrastrutture del capologo ionico con quella dell'arco provinciale. Siamo contenti oggi di discutere in Consiglio questo documento unico di programmazione per il prossimo triennio che include il piano triennale delle opere, avvalere su fondi PNRR, transizione giusta e altre misure di derivazione comunitaria e amministrazione regionale. Noi abbiamo praticamente programmato interventi su tutti i comuni della provincia. Non so questo da quanto tempo non succedesse, tante strade, noi abbiamo 1300 km in gestione, come sapete, tanti edifici scolastici, tanti mutui che finalmente, rispetto a un bilancio molto solido che questo ente ha, daranno delle ricadute importanti alla nostra comunità. E poi, fatemelo dire, abbiamo costruito una programmazione, come avevamo annunciato qualche tempo fa, anche in linea, in maniera moderna, con gli obiettivi dell'Agenda 2030, questa possibilità di diversificare i nostri modelli produttivi, accompagnare anche un po' fuori dalla mission dell'ente provinciale, i comuni verso la promozione territoriale, verso iniziative di grande respiro, come possono essere anche quelle dei giochi del Mediterraneo. Insomma, c'è un clima di grande fiducia, di grande fermento. Dopo la sessione di bilancio del prossimo mese di maggio, sicuramente partiranno anche i concorsi per la pianta organica, per ampliare le assunzioni di questo ente che mancavano da tanto tempo. E credo che dopo qualche mese di settaggio, insomma, la macchina qui finalmente sarà pronta a dare il meglio di sé a tutte le comunità dell'Arco Ionico. Il centro sportivo Magna Grecia di Taranto potrebbe essere finalmente arrivato alla fine delle sue decennali traversie. Secondo alcune fonti vicine all'amministrazione comunale, infatti, sarebbe ormai prossima la giudicazione della struttura da parte dell'Associazione Temporanea di Imprese, costituita dalla Domus SRL, dalla Prisma Taranto Volley, dall'impresa edile di Walter Bardia e dall'Euroclima Impianti di Acquaviva delle Fonti. La giudicazione dovrebbe avvenire ufficialmente entro i primi di maggio. L'ingegner Simona Sasso, dirigente dei lavori pubblici del Comune di Taranto, che nei giorni scorsi ha risposto alle domande dei consiglieri comunali all'interno di un'audizione della Commissione Garanzia e Controllo, ha parlato di una concessione di 22 anni, di cui due saranno impiegati per ripristinare la struttura, pesantemente vandalizzata negli ultimi tempi. Il canone mensile, invece, si aggirerebbe sugli 8.000 euro. Il modello gestionale resterà quello già ipotizzato dal bando emanato la scorsa estate, ovvero di un partenariato pubblico-privato. Cosmopolis Media, nei mesi scorsi, aveva attirato nuovamente l'attenzione sul centro sportivo situato tra Via Zara e Via Alto Adige, che da oltre dieci anni verse in stato di abbandono e di degrado, documentando nelle attuali condizioni e rivelando successivamente, attraverso fonti vicine all'attuale amministrazione comunale, che la struttura sarebbe stata presto oggetto di decisioni definitive. L'atti che dovrebbe aggiudicarsi la concessione del centro sportivo nelle prossime settimane è la stessa che ha presentato l'offerta la scorsa estate, chiedendo però una sospensione dei termini del bando emanato a luglio 2022. Tra le obiezioni mosse, infatti, c'erano la durata ventennale della concessione, che non teneva in conto il tempo di ripristino della struttura e l'iniziale investimento da 4 milioni e 800 mila euro, che necessitava di un aggiornamento alla luce del rincaro delle materie prime e dei costi energetici. Dopo la riapertura dell'ennesimo bando avvenuta a settembre e i cui termini erano scaduti a fine ottobre 2022, sulle sorti del centro sportivo Mania Grecia era calato nuovamente il silenzio e negli ultimi tempi aveva subito anche un piccolo incendio, che aveva ulteriormente danneggiato gli impianti. L'auspicio, insomma, è che per questo ex fiore all'occhiello dell'offerta sportiva tarantina, protagonista di una lunga e tormentata storia di vicissitudini amministrative, politiche ed economiche, sia finalmente arrivato il momento del riscatto. Un cittadino di origini pakistane si è recato presso gli uffici del commissariato di Martina Franca per denunciare il furto del suo monopattino del valore di circa 800 euro. L'uomo ha precisato di aver visionato un noto sito di annunci di compravendite online sul quale aveva riconosciuto il suo monopattino, che era già stato messo in vendita da un pregiudicato della zona. Gli investigatori si sono presentati nell'ora e nel luogo dell'appuntamento, dove era stato organizzato l'incontro per l'acquisto del mezzo, al momento della consegna dei soldi 250 euro. Il 45enne è stato fermato e condotto negli uffici del commissariato locale, dove ha aggredito verbalmente i poliziotti, arrivando a minacciarli apertamente. Il 45enne è stato denunciato per ricettazione e minaccia a pubblico ufficiale. Rosario De Luca, presidente nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, sarà per la prima volta a Taranto per partecipare al convegno il ruolo strategico del consulente del lavoro nella società che cambia e per tenere nel capologo ionico la consulta dei presidenti degli ordini dei consulenti del lavoro della Puglia. De Luca, nello scorso novembre, è succeduto nel prestigioso incarico di presidente nazionale a Marina Calderone, oggi ministro del lavoro. La sua presenza farà convergere sul capologo ionico l'attenzione di tutti i consulenti del lavoro pugliesi. Il momento pubblico della giornata tarantina di De Luca è il convegno che si terrà a Taranto dalle ore 9 alle ore 13 di venerdì 21 aprile presso l'Hotel Salina. L'evento è stato presentato quest'oggi in conferenza stampa da Giovanni Prudenzano, presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro e da numerosi consiglieri. Venerdì 21 aprile avremo il piacere e l'onore di ospitare a Taranto il nostro presidente nazionale, Rosario De Luca, all'interno di un momento di formazione e di approfondimento su quello che è il ruolo strategico del consulente del lavoro nella società che cambia. Momento sicuramente all'interno del quale si rimetterà al centro la figura del consulente del lavoro per cercare di far emergere ai più tutte quelle che sono le attività e le peculiarità che la nostra professione ha conquistato nel tempo. Momento anche importante perché vedrà nella stessa giornata, nelle ore pomeridiane, un incontro di tutti i presidenti dei consigli provinciali della Puglia, appunto perché utilizzando la presenza autorevole del presidente nazionale si vuole riaprire un focus di discussione anche politica per capire quali sono le nuove sfide ai quali saremo incontro e soprattutto essere presenti, puntuali per accoglierle e per portarle avanti al meglio come è solito nella nostra attività di categoria. Si chiama Vincenzo Schettini, è un professore educatore della scuola italiana ma è anche un fisico, un musicista, un curioso, un appassionato di vita. Ha creato e lanciato il canale YouTube La Fisica che ci piace. Qui spiega la fisica sui social con estrema semplicità e per questo amore per la fisica, per l'insegnamento creativo, è diventato famoso come una rock star, è diventato uno degli influencer più amati del web. Ormai su TikTok sfiora il tetto del milione di follower. Vincenzo Schettini ha riscattato la figura dell'insegnante. Per la presentazione del suo libro lo abbiamo incontrato a Taranto nell'ambito di Parole di Frontiera, pomeriggi d'autore, promosso da Comune di Taranto, Biblioteca Clavio, presidi del libro e programma sviluppo Main Partner. Allora, secondo me la scuola in realtà ha 10, 20, 100 persone creative, se appunto vogliamo interpretare lo Schettini attraverso questo, ce le ha, ce le ha. Molte persone, molti professori lavorano in silenzio dalle classi, portando innovazione, portando idee con grandi sacrifici. Lo dicevo all'inizio di questo dibattito stasera. Cioè l'insegnante è ossessionato, ahimè, purtroppo dal dover finire il programma, compilare carte, fare consigli di classe, ma gente creativa ce n'è a scuola. Non viene raccontata, ecco questa è la verità, o comunque magari non si racconta. Io ho avuto l'idea, ma anche magari la naturalezza, di presentarmi davanti a un telefono, a una telecamera e raccontare quello che faccio in classe e fuori dalla classe. Ma sono convinto che una bella scuola c'è, la scuola sta vivendo un periodo ecco di cambiamento, di grande confusione, perché c'è tanta offerta da un punto di vista della tecnologia, quindi ogni insegnante si sta magari riorientando a seconda di quello che c'è da fare. Ma sono convinto che continuando questa rivoluzione dal basso, verranno fuori sempre modelli bellissimi a scuola. Oggi, tirando le somme, è stato un successone, un successone che non si chiude, perché facciamo una pausa, ci aggiornierimo per una nuova edizione. Una chiusura tra l'altro col botto, col professor Schettini, che mi ha personalmente colpito, in premis per quello che è il suo rapporto con il mondo della scuola, per quella che è la sua metodologia. Metodologia che ispira i ragazzi, che crea, più che felicità, crea armonia e entusiasmo. È un costruttore di futuro. Mi piace utilizzare il payoff di programma sviluppo per racchiudere il suo pensiero, per racchiudere anche la sua visione. Quindi si continua. Zorro, un'eremita sul marciapiede. È il testo di Margaret Mazzantini, scritto appositamente per l'atteso ritorno al teatro di Sergio Castellitto, attore e regista dopo tanto cinema e fiction. Al teatro Fusco, in Sold Out, Sergio Castellitto, in un monologo da 90 minuti, ha interpretato un senza tetto che ripercorre la storia della sua vita e riflette sulle scelte che lo hanno portato a vivere per strada e sul significato stesso della vita da barbone, ai margini della società. Un uomo però capace di vedere la realtà osservando la vita delle persone normali e di ritornare in maniera allegra e indefessa alla complessità di una esistenza imprevedibile. Con una scenografia davvero essenziale, un testo difficile e complesso, un grande Sergio Castellitto ha gridato messaggio forte, ha espresso un teatro di parole che ha coinvolto il pubblico, ha raccontato la storia di un uomo che apparteneva alla normalità della società ma poi perde gli amici, perde l'amore, perde tutto tranne la dignità. La società del presidente Bon Giovanni ha raggiunto l'accordo con Mirko Corsano per un ritorno nel ruolo di direttore sportivo della gioiella Prisma Taranto nel campionato 2023-2024. Nato a Casarano nel 73 e cresciuto a Dugento, Corsano vanta una lunga carriera da giocatore, collezionando più di 200 presenze in nazionale. Nella stagione 2021-2022 va ad arricchire il quadro tecnico dirigenziale della Prisma Taranto. Ritrovare per la prossima stagione Corsano, dichiara il presidente Bon Giovanni, sarà una piacevolissima opportunità dal punto di vista umano e professionale. Dalla redazione di Cosmopolis News è tutto al prossimo notiziario.